ciao bentornato al programma tv di oggi con notizie come federico fashion style all'anagrafe ha confessato federico lauri è tornato a scagliare alcune frecciatine infuocate contro letizia porcu madre di sua figlia sophie mael la storia tra federico e letizia non è finita nel migliore dei modi e a diversi mesi dall'addio e dal suo coming out federico lauri ha svelato alcuni retroscena sulla separazione il noto hair stylist dei vip ha rivelato che la sua ex oltre ad averlo costretto a lasciare la sua casa di anzio gli avrebbe chiesto un mantenimento di 10.000 euro al mese devo abbandonare la mia casa me l'avevano regalata i miei genitori dopo averla costruita con tanti sacrifici quando ho compiuto 18 anni il giudice l'ha affidata mia figlia ma lei e sua madre non ci andranno mai è solo una ripicca della mia ex che si è vista negare l'assegno di mantenimento di 10.000 euro mensili federico fashion style la dura battaglia legale con l'ex federico fashion style quello che ha fatto più male a federico fashion style è il fatto che la sua ex sostenga che sarebbe stata la loro figlia a chiedere la casa ma come può una bambina di sei anni avanzare una simile richiesta l'hair stylist dei vip ha espresso la sua disponibilità a fare qualsiasi sacrificio per la figlia incluso vivere in auto se necessario adesso federico fashion style si trova a condividere la stessa situazione di migliaia di padri separati che gli hanno scritto per esprimermi solidarietà letizia porcu non ha rotto il silenzio in merito alla questione ed in tanti si chiedono se lo farà nel frattempo il popolare volto televisivo continua a lottare per i suoi diritti da padre e per quelli di tutti i padri separati sperando in un futuro migliore all'insegna di rapporti più civili con la sua ex che è la madre di sua figlia grazie per aver guardato l'intero video la notizia è qui per finire mettete mi piace commentate in particolare cliccate iscriviti al canale per ricevere le ultime notizie ciao e ci vediamo nei prossimi video ciao